Era partita dall'isola croata di Brazza ed è approdata a Fano l'unità transporter 3 che contiene materiale per la rifioritura e la posa delle scogliere lungo il tratto antistante la zona di Sassonia. I lavori, coordinati dalla ditta Slimar SRL, riguarderanno la ricarica e il rifornimento delle scogliere sommerse e anche la posa in opera di nuove scogliere emerse nello specchio acqueo che si affaccia davanti agli stabilimenti balneari di Bagni Carlo e Bagni Gabriele. Un intervento di difesa della costa atteso da tempo da parte dei bagnini e di tutta la città intera. Il vice sindaco Cristian Fanesi ha fatto sapere che servirà a migliorare i problemi connessi all'erosione costiera, sia salvaguardando le risorse economiche e sociali del territorio, sia conservando la biodiversità e le risorse ecologiche. Negli anni sono state realizzate numerose opere di protezione della costa con l'intervento di preservare e proteggere dall'erosione areni di edifici ed infrastrutture, così da salvaguardare il territorio a favore di cittadini, bagnanti e commercianti. Il tutto arriva anche all'inizio di una stagione turistica particolare causata dall'emergenza sanitaria, ma andrà sicuramente a migliorare la qualità delle spiagge fanesi.